L'Evemero collabora con la Torre Bianca già da diversi anni, però per la sesta edizione della 10 km di Capo Peloro c'è una partecipazione attiva dei ragazzi del suo istituto. Sì, è stato veramente naturale per noi partecipare, introdurci quest'anno alla manifestazione del trofeo Cacopardi con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che parteciperanno a questa gara non competitiva con un percorso realizzato all'interno dell'itinerario della gara. Saranno tutti premiati, chi con medaglie, chi con gli attestati di partecipazione perché il messaggio che noi vogliamo trasmettere è quello del valore dello sport nella formazione dei ragazzi, per cui è per noi importante poter partecipare per la prima volta al trofeo Cacopardi, anche perché comunque la nostra scuola insiste proprio nei luoghi in cui si svolgeranno le gare, quindi Torre Faro.